La cultura come terreno di dialogo tra civiltà. Su questo si fonda l'iniziativa per le civiltà voluta dalla Cina, i cui cartini sono indipendenza, autosufficienza e rispetto delle diversità culturali e storiche. La cultura rappresenta infatti uno strumento fondamentale per conoscersi, superando così perplessità e dubbi e dando vita ad un futuro migliore. Una conferma che arriva anche da esperti del settore, come la dottoressa Binacchi, che ha contribuito a circa 50 progetti culturali bilaterali tra Italia e Cina ed è stata anche testimone di diversi accordi tra i due paesi per la conservazione dei beni culturali. Per molti anni lei ha lavorato in prima linea nello scambio, nella collaborazione culturale tra Italia e Cina. Lei ha anche partecipato a numerose mostre molto importanti in entrambi i paesi. Lei ricorda ancora a quante mostre più o meno si è dedicata in questi anni e quali di queste mostre ricorda in modo particolare e perché? Sì, come lei dice, effettivamente negli ultimi vent'anni della mia attività professionale mi sono dedicata in modo particolare e con molto entusiasmo al rapporto Italia e Cina, che credo sia sul fronte culturale un rapporto modello e molto significativo. Lei mi chiede quante mostre, sinceramente non le ho mai contate, ma forse una cinquantina, circa 50 progetti a cui ho dato, ho contribuito. Lei come valuta il concetto e l'impegno cinese nella conservazione e sviluppo del patrimonio mondiale? Ma lo valuto sicuramente molto positivamente. Credo che nel tempo sia la parte, diciamo, sia le competenze e le strutture cinesi che quelle italiane su questo fronte della conservazione e tutela e anche valorizzazione del patrimonio culturale abbiano fatto passi da gigante. Lo dimostra il fatto che Cina e Italia si competono il primato di siti UNESCO, di siti protetti, eccetera. Per questo motivo c'è molta sinergia tra le istituzioni italiane e cinesi che si occupano di questo settore specifico. Ci sono degli accordi, c'è un accordo quadro di collaborazione sul fronte della conservazione del sito UNESCO, ci sono degli accordi specifici di gemellaggio, come lei saprà, tra alcuni siti estremamente emblematici e l'idea è naturalmente di ampliare questo modello. Quindi ora abbiamo quattro siti gemellati, ne abbiamo in programma altri e auspichiamo che questo si possa fare perché questo è un modello di confronto, di collaborazione, di knowledge transfer, ha tante caratteristiche. Lavorare insieme, in sinergia, mettendo insieme le proprie competenze le proprie problematiche è estremamente importante, è il futuro, non si va da nessuna parte da soli se non si hanno appunto modalità e possibilità di confronto. Pensavamo di organizzare anche questi seminari, workshop in gruppo e anche online, penso che lo faremo, ci saranno occasioni future, a breve anche, ci sono delle ricorrenze, dei centenari importanti che richiamano anche queste città. Parlo di Marco Polo, ad esempio, il cui centenario sarà il prossimo anno, 2024-2025, quindi auspico che questo sia un momento che richiama anche le tematiche dei gemellaggi, poiché sia Venezia che Sugio sono città gemellate e sono sicuramente le città di Marco Polo, ecco. A marzo scorso la Cina ha avanzato l'iniziativa globale per le civiltà, nella quale ha proposto di rafforzare gli scambi people to people e discutere la realizzazione di una rete globale di dialogo e di cooperazione tra le civiltà globali. Per queste due grandi civiltà tra Oriente e Occidente, in particolare lei investe come esperta che ha lavorato da anni nel mondo culturale, lei come vede questo dialogo e questa collaborazione tra le civiltà? Ribadisco con molto entusiasmo che non c'è altra via che la collaborazione, non c'è altra modalità che utilizzare la cultura come percorso, come terreno di comprensione, di dialogo, di conoscenza reciproca. La cultura è uno strumento di diplomazia culturale ed è uno strumento importantissimo per conoscersi perché conoscendosi si superano molte, come posso dire, perplessità o inconsapevolezze e si costruisce il futuro, si fa ricerca. Naturalmente io mi esprimo in questo momento da esperta e non ho, nella mia non è una posizione di nessun tipo, se non una riflessione personale. Molti anni fa organizziamo al World Art Museum, Millennium Monument, una grande installazione che fu allestita per quasi due anni sulle grandi civiltà orientali e occidentali, proprio di confronto, di divisione su quelle che sono le similitudini, le caratteristiche specifiche eccetera. Quindi quella fu una specie di prototipo, fu una prima vetrina di che cosa, quali sono le grandi civiltà mondiali, come dialogano tra loro, come si intersecano eccetera, perché nessuna di queste civiltà è stata autoreferenziale. Pensiamo a figure, mi viene in mente Marco Polo, ma come lei sa ci sono stati molti altri, tra virgolette, viaggiatori che hanno permesso un dialogo costruttivo e uno scambio estremamente efficace tra le civiltà. quindi mi trova assolutamente favorevole e credo che questo sia il percorso.